Il tema dell'immigrazione è un tema serissimo, strutturale, addirittura all'assetto dell'Europa, non soltanto all'aspetto culturale ma proprio alla sua tenuta politica, è un tema che sta profondamente mettendo in crisi l'Europa, i muri sorgono proprio perché non c'è una politica sull'immigrazione, più politica ferma, dura, sicura nei confronti dell'immigrazione e determinata nei confronti dei governi, dei paesi di provenienza eviterebbero i muri, chiaramente.